Carlo Secchi è stato nominato vicepresidente del Luce all'Università Catalana d'Estiu. Il prestigioso incarico gli è stato conferito dal nuovo presidente del Luce, Jaume Sobrequest, professore universitario ed ex parlamentare, figura molto conosciuta nel mondo accademico catalano internazionale. Secchi dal 1992 ha sempre fatto parte del Consiglio di Presidenza del Luce, in rappresentanza dell'Obra Cultural dell'Alghè, associazione fondatrice della prestigiosa Accademia Catalana. Il ruolo del neovicepresidente è sempre stato quello di sostenere e rivendicare la posizione di Alghero tra i paesi di lingua catalana. Dal 1992 è stato istituito il corso di iniziazione ai paesi catalani con uno specifico su Alghero, che affronta i temi della lingua, della storia, della letteratura e della società.